Le tragedie legate al maltempo che in questi giorni si sono verificate in Sicilia pongono alla ribalta una piaga del nostro territorio tristemente nota, quella dell'abusivismo edilizio e del conseguente rischio idrogeologico. Certo, non erano necessari 12 morti, 10 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Agrigento, per fare scoprire che in Sicilia il 60% delle abitazioni è abusivo e non dispone delle necessarie autorizzazioni. Il Codacons, dopo questa ennesima tragedia, ha deciso di rivolgersi alla magistratura puntando il dito sull'abusivismo edilizio in Sicilia e sull'assenza di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Impossibile, evidenzia il segretario nazionale Francesco Tanasi, non vedere un nesso tra i sempre più frequenti allagamenti ed esondazioni e lo sfruttamento del territorio che avviene attraverso una cementificazione selvaggia e un'urbanistica senza regole. Alla Procura è stato chiesto di accertare l'attività degli enti locali per la messa in sicurezza del territorio, considerato che 360 comuni siciliani su 390 sono ubicati in zona a rischio idrogeologico con evidenti pericoli per la popolazione. Tra questi comuni, naturalmente, ce ne sono anche nel territorio ebleo. E se è vero che le morti di questi giorni, tra cui due bambini di appena 1 e 3 anni, esigono prima di tutto dolore e rispetto, è anche vero che non si può restare muti davanti alla superficialità e all'immobilismo in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e alle concessioni edilizie rilasciate in zone altamente a rischio. Zone a rischio come Modica, ad esempio, dove più volte nel passato sono state denunciate situazioni di grande pericolo. La città, per conformazione attraversata da diversi alve di fiumi e negli anni, a colpi di varianti al piano regolatore generale, sono stati autorizzati diversi scempi, sono state autorizzate costruzioni a scopo abitativo nelle vicinanze degli alve e dei torrenti, come il Pozzo dei Pruni e il San Liberale. In passato, grazie alle denunce di comitati e associazioni cittadine, sono state avviate indagini, sono state fatte denunce, ma in concreto la situazione è rimasta pressoché immutata e la natura ha già dato segnali inquietanti che fortunatamente hanno provocato solo danni materiali. Ricordiamo che il Milicia era solo un fiumiciattolo che mai in passato aveva rappresentato un pericolo e che invece all'improvviso si è trasformato in una trappola mortale per due famiglie. Sull'emergenza, il parlamentare nazionale Nino Minardo ha chiesto alla Regione una conferenza straordinaria che coinvolga tutti i soggetti istituzionali interessati assieme alle associazioni, alle imprese e ai singoli privati che possano avere un ruolo propositivo ed esecutivo. Servono un quadro chiaro di ogni criticità in Sicilia ed investimenti per la pulizia degli alvei e dei costoni rocciosi. Grazie. Grazie.